Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Piepoli, B di Media, proprio di oggi, sulla fiducia nel Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Rispetto all'ultima pubblicazione c'è una flessione dell'1% nei giudizi di molta e abbastanza fiducia, che insieme raccolgono il 47%, 35% ha molta fiducia, il 12% abbastanza fiducia. Si dice per nulla soddisfatto del Premier il 18% degli interpellati, mentre è poco fiducioso il 24%, quindi parliamo di un 42% non avrebbe fiducia nel Presidente del Consiglio, quindi una minoranza rispetto ad altri sondaggi. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video. Arrivederci a tutti.